Il Consiglio è un dibattito con io, quindi io chiedo che il Consiglio si esprima su quale spesa richiesta del sindaco, il sospetto, la seguita, la cassa a tutti, così, non è basta che si rifugio con il servizio del sistema, no, no, sospetto, allora chiedo al Consiglio C'è un pundire di forgets, politico, anche se abbiamo, aspetengo, ora ci sono Grazie a tutti, grazie a tutti 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 Grazie a tutti